Buongiorno a tutti, la squadra si è allenata bene, quelli che sono rimasti hanno fatto una buona settimana di lavoro gli altri che sono tornati sono tornati in buone condizioni, è normale che qualcuno deve ancora smattire il fuso però direi che c'è voglia di far bene domani alla ripresa che comunque è sempre una partita molto difficile perché le partite di ripresa sono sempre complicate contro una Lazio che ha fatto una bella partita e una vittoria a Napoli quindi il gruppo si sta allenando bene, devo dire la verità dispiace e è difficile fare la formazione perché comunque ci sono giocatori che in questo momento meriterebbero di giocare purtroppo devono star fuori e vedendole allenare è un dispiacere da una parte, è un bene dall'altra vuol dire che tutti comunque ci tengono a far bene e si mettano a disposizione della squadra Buon pomeriggio, mister Giovanni Albenese Sport Italia le chiedo, visti i riferimenti che ieri Bonucci ha fatto nei suoi confronti se ha qualcosa da replicare e se crede ci sia qualche responsabilità sua o della dirigenza nella gestione di questa vicenda In questo riguardo alla vicenda di Leonardo Bonucci credo che non ci sia più niente da dire abbiamo già detto tanto, non ho niente da aggiungere, posso solamente ripetere quello che ho detto facendogli un grosso in bocca al lupo per quello che sarà la sua carriera dentro e fuori dal calcio Daniele Galosso, Tutto Sport io agganciandomi a questo volevo chiederle come si avvicina il gruppo alla partita di domani a livello mentale nel senso che siete reduci da una stagione in cui l'extracampo ha avuto il sopravvento sovente sul campo negli ultimi giorni con le debite e proporzioni si è parlato di quanto è accaduto a Pogba le frasi di Bonucci ieri come sta la squadra da un punto di vista mentale e quanto potrebbe risentire un po' di quanto è successo in questi giorni? Per quanto riguarda fuori dal campo siamo abbastanza ferrati quindi su quello siamo sereni per quanto riguarda quello che è successo a Pogba sono dispiaciuto della situazione però non posso aggiungere, non ho altro da aggiungere anche perché c'è un procedimento in corso e quindi ci sono delle persone coinvolte allora è giusto aspettare la fine del procedimento Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport io torno un attimo su Bonucci perché è vero e rispetto a quello che ha detto lei prima non c'è molto da aggiungere però c'è un aspetto cioè lei dice ripeto quello che ho già detto quindi ripete anche di averlo avvisato a febbraio perché lui lo nega quindi diciamo uno dice bianco l'altro dice nero se può chiarire questo perché insomma è abbastanza grave quello che sta emergendo diciamo che le soppopera sono su canale 5 credo non sono molto appassionato detto questo credo che ho già detto e ripeto a Leonardo le faccio un grosso in bocca al lupo perché quello che sarà il suo proseguo la carriera tra l'altro è andato in una squadra che gioca la Champions quindi per lui sarà una stagione molto importante anche a livello motivazionale quindi non ho nient'altro da aggiungere Buongiorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport invece volevo tornare su Pogba volevo capire che cosa cambia per la Juventus al netto del fatto che comunque come titolare la Juve praticamente non l'ha mai avuto però comunque come hai detto tu stesso è l'uomo che nell'ultima mezz'ora ti poteva dare qualità quindi dal punto di vista tecnico che cosa cambia per la Juve paventando una lunga assenza insomma Guardi, in questo momento qui da dire cosa cambia è praticamente difficile ora sappiamo che ha subito una sospensione aspettiamo la fine del procedimento poi una volta che ci sarà la fine del procedimento e di conseguenza la sentenza potrò dire cosa cambierà nella Juve al momento sappiamo che domani non ci sarà ancora Lazio e poi credo che non ci sarà neanche cosa sola e quindi poi dopo vedremo però noi bisogna essere concentrati su quello sui giocatori che abbiamo ne abbiamo tanti sono in buona condizione sappiamo che domani per noi è una partita molto importante perché è uno scontro diretto e quindi bisogna affrontarla nel migliore dei modi Buongiorno Ministro e Marco Venditti Signore mea Calcio News sempre parlando di Pogba qual è il giocatore avendo a disposizione prima a gennaio di ricorrere a qualche elemento sostitutivo qual è il giocatore con le caratteristiche più simili a Pogba per poterlo sostituire eventualmente e poi la seconda è se quella con la Lazio con una partita molto delicata la prima con una partita con una gara importante potrebbe essere un primo crucevia di un inizio di campionato grazie per quanto riguarda Pogba non dobbiamo fare l'errore di andare a trovare un giocatore con le caratteristiche uguali a Pogba ognuno ha le proprie caratteristiche quindi bisogna sfruttare le caratteristiche al meglio dei giocatori che abbiamo in rosa per quanto riguarda domani il crucevia non è un crucevia io credo che la Lazio sia una diretta concorrente per arrivare nelle prime quattro che è il nostro obiettivo finale della stagione perché ripeto l'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions e quindi per tornare a giocare la Champions l'anno prossimo bisogna giocare bisogna arrivare nelle prime quattro per arrivare nelle prime quattro bisogna fare un totto di punti e quindi il campionato è lungo bisogna avere la forza di giocare di prepararsi partita dopo partita ci saranno momenti difficili momenti meno difficili ma il nostro obiettivo comunque sarà l'ultima partita di campionato dove lì dovremmo essere nelle prime quattro buongiorno mister Nicola Gallo Mediapason volevo restare su Pogba e fare una somma di questi 13-14 mesi lei è stato fondamentale nella crescita della ragazza e probabilmente anche nella scelta di tornare nel rapporto che c'era tra voi si aspettava una situazione diversa è stato molto controversa la gestione del primo infortunio da parte sua anche qui avrebbe fatto molto da solo ha trovato un ragazzo diverso da quello che si aspettava e da quello che ha visto partire? è tornato un uomo di 30 anni che purtroppo ha subito questo infortunio e purtroppo le cose non sono andate bene quindi lui ha messo tutto l'impegno per far bene noi abbiamo cercato di mettersi a disposizione e lavorare il meglio possibile però purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo e dispiace rispetto a dispiace la situazione io posso dare una valutazione al giocatore Pogba che è un giocatore comunque che come ho detto anche nelle precedenti conferenze è un giocatore diverso da tutti gli altri con il rispetto degli altri Salve Ministero Rodinino La Stampa io volevo solo chiedere una cosa a livello umano ma lei è rimasto più dispiaciuto da quello che è successo con Bonucci o con Pogba? sono due dati di fatto diversi per Pogba mi dispiace molto della situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda Leonardo ormai abbiamo parlato tantissimo e credo che sia molto più importante pensare alla partita di domani e guardare in avanti perché tanto indietro non possiamo tornare la vita è questa la vita va avanti e quindi bisogna solamente pensare da quello che sarà domani Buongiorno Alessandra D'Angio a Rai Sport arriviamo dalla pausa per le nazionali la nazionale le ridà un Locatelli rinfrancato da un'ottima prestazione non si è visto invece chiesa con la nazionale allora le chiedo quanto si è preoccupato quando l'ha visto lasciare il ritiro come sta e le possibilità di vederlo dall'inizio domani le possibilità di vederlo all'inizio domani sono molte il ragazzo è tornato ha fatto due o tre giorni di recupero poi si è rimesso con la squadra e quindi domani c'è la possibilità che giochi dall'inizio Locatelli Locatelli stava facendo bene il nazionale ha fatto una bella partita e sono molto contento perché ha bisogno della riconvocazione nazionale di giocare una partita del genere Buongiorno mister Nicola Balice calciomercato.com e la stampa anche in base alle ultime situazioni nelle rotazioni McKennie torna ad essere soprattutto una mezzala o continuerà in questa fase a rappresentare un'alternativa sulla fascia destra? Grazie Ma che è un giocatore che può giocare da mezzala e da esterno e momentaneamente domani è probabile che parta all'inizio se devo fare ancora delle valutazioni sia su di lui che sia su Danilo che comunque è rientrato solamente ieri e quindi sono sono indecisi su questi due però McKennie sta diventando un giocatore affidabile sono molto contento di come si è ripresentato e di come sta lavorando ora l'importante è che tenga a livello mentale per tutto l'anno Antonio Polino Radio Bianconera hai detto all'inizio formazione non facile da formulare per domani qualcosa ci stai dicendo c'è la possibilità di vedere un cambiaso magari spostato di corsia visto chi è tornato e ha problemi di fuso orario e ti chiedo se sentirsi etichettato bugiardo dà un po' fastidio al di là del discorso professionale no no c'è i miei amici mi chiamano sempre Pinocchio quindi vuole dire che quello è il meno diciamo che per quanto riguarda invece la formazione cambiaso è un giocatore che può giocare anche a destra dicevo prima problemi di formazione non tanto per la parte di domani perché come si allena il gruppo e quindi stamattina sono trovato un po' in difficoltà perché comunque dei quattro attaccanti stanno tutti e quattro bene lasciare fuori Milik e Kenne in questo momento è molto difficile così come nel refarto difensivo Rugani è un giocatore affidabile diciamo che c'è una buona armonia però per far sì che continui questa buona armonia bisogna cercare di fare risultati soprattutto che si giochi di squadra perché sappiamo che è un anno importante è un anno molto difficile per arrivare nelle prime quattro Buongiorno mister Alberto Mauro il messaggero di Juventus News24 con la sospensione di Pogba e con l'addio di Bonucci lei non pensa che questa Juve abbia un pochino un limite di personalità ed esperienza rispetto agli anni scorsi grazie tutto questo lo dovranno risultati è normale che Bonucci e Pogba erano giocatori di esperienza come era stato Di Maria l'anno scorso lo stesso Paredes quindi Quadrato stesso però abbiamo un bel gruppo un gruppo giovane che ha voglia che può solo che migliorare e crescere quindi noi bisogna continuare a crescere domani è un altro test importante per vedere se miglioreremo la prestazione di Empoli detto questo domani affrontiamo una Lazio molto organizzata che ha giocatori qualità che ha giocatori veloci è una partita complicata e difficile perché è uno scontro diretto Ciao Emanuele Gambe Repubblica prima hai detto che siete ferrati sulle vicende fuori campo però Pogba e Bonucci sono due vicende di campo di spogliatoio quindi volevo chiederti se temi che all'interno del gruppo abbia qualche ripercussione visto che sono due giocatori credo che fossero anche molto ascoltati dei punti di riferimento per i compagni in particolare chiaramente Bonucci che ha creato una sorta di guerra interna No Leonardo Leonardo non ha creato una guerra interna assolutamente è stata presa una decisione come è stato detto tante volte che è normale nel corso della vita e quindi per lui gli si è aperta un'altra un'altra porto importante per andare a giocare la Champions detto questo la squadra è una squadra che nonostante che abbiamo abbassato molto l'età è una squadra responsabile che ha voglia di dimostrare di fare sicuramente come tutte le squadre che ho allenato quando va sul campo mette tutto quello che ha da mettere dentro e questa è la cosa più importante Mister buongiorno Maghe Di Abuabia TGR Piemonte Rai ma quindi quali sono i punti di forza di questa Lazio che deve temere la Juventus comunque l'ultima allo stagio contro il Bologna non è andata come si sperava se vogliamo certo Empoli ha dato delle soddisfazioni delle risposte che magari cercava anche lei cosa bisogna aspettarsi dalla Lazio e quindi che Juventus penserà giocherà domani la Lazio è una squadra che ha molta tecnica perché Luis Alberto Immobile Zaccagni Filippo Anderson Pedro Ancora Cataldi direi giocatori molto tecnici veloci giocano bene nello stretto quindi bisogna stare molto attenti in contropiadi sono molto abili basta vedere Napoli e anche partite dell'anno scorso e quindi quando si gioca gli scontri sono partite equilibrate il dettaglio fa la differenza e bisogna essere bravi a portare l'episodio alla nostra parte l'ultima domanda Gazzetta ha chiesto di fare la seconda della Valle Gazzetta io ho una curiosità la lista dei rigoristi c'è dopo Vlaovic chi c'è per battere i rigori? mi deve essere la domanda non così mi ho preso la sprovvista dopo Vlaovic c'è Milic te così però cosa per la formazione no sto scherzando no sto scherzando abbiamo dei giocatori che tenono bene i rigori abbiamo Milic abbiamo Ken che è un buon rigorista Danilo stesso che è un altro rigorista grazie